Cari concittadini e cari concittadini, c'è molta preoccupazione nelle nostre isole, Favignana, Levanzo, Marettimo, tra i lavoratori, tra gli impiegati, tra i cittadini, per l'atteggiamento della Liberty Line, che ha deciso di azzerare le tessere con i vantaggi previsti per chi lavora nelle nostre isole, per chi ha una frequenza costante per obblighi familiari o di lavoro con i nostri territori. Come sapete la nostra amministrazione ed io personalmente come sindaco sono stato il primo tra tutti i sindaci delle isole minori ad aprire un confronto anche duro e pubblico con i vertici della Liberty Line. Lo abbiamo fatto anche attraverso un incontro convocato da noi con i vertici dell'azienda qui al Comune di Favignana e l'ho fatto personalmente chiedendo un incontro all'assessore Falcone per affrontare non solo questi temi, ma anche quello del taglio delle miglie previste dalla Regione in vista del nuovo bando per la navigazione veloce verso le isole minori. È necessario che ognuno faccia sentire la propria voce. È così come abbiamo più volte espresso forti rimostranze per il taglio delle rotte, per la mancata partenza e i mancati viaggi in condizioni di tempo, per noi discutibile dal punto di vista delle condizioni del mare. Noi crediamo di rappresentare gli interessi dei cittadini e se i cittadini decidono in modo autonomo di far sentire nelle forme che essi stessi decideranno la propria voce di fronte a questa situazione, sappiano che avranno il sindaco, la giunta comunale e tutta l'amministrazione al loro fianco.